Buonasera e ben ritrovati amici sportivi appassionati di calcio da Riccardo Buffetti e Arezzo TV insieme per seguire un'altra gara dedicata al calcio femminile. Infatti nonostante il campionato di Serie B sia praticamente fermo per la sosta, oggi Arezzo Calcio Femminile deve recuperare un'importantissima gara risalente alla dodicesima giornata, la prima di ritorno contro la squadra del Milan Ladies. Diretta avversaria per la colza salvezza, nell'ultimo incontro giocato dalle ragazze di Mister Bonci è arrivata la sconfitta Ravenna che ha rallentato lo score della squadra Maranto. Sicuramente Razzolini ha perso un tempo di gioco nel cercare di servire una compagna, ha provato a fare tutto da sola, l'azione si è conclusa in 1-1. A Ferrazza che sbaglia l'intervento di testa e regala il gol del vantaggio al Milan, c'è stata l'altra versione da distanza da parte di Dugo. Ferrazza non si è intesa con Antonelli, il suo colpo di testa si è trasformato in un'autorete, dunque quando siamo al nono minuto nel corso del primo tempo il Milan passa in vantaggio grazie a un'autorete di Ferrazza. A parte Simeone sul primo palla della zona di Aterini, la palla che sfiora la rete, ma c'è il tocco da parte di un difensore del Milan e dunque sarà nuovamente il corner per l'Arezzo. Fa centrarsi Casula ancora, il tocco per Razzolini, Razzolini prova a girarsi, ancora Razzolini, calcio di rigore, calcio di rigore per l'Arezzo. Calcio di rigore per l'Arezzo, nettissimo e bravissimo, Razzolini a conquistarlo, arriva adesso anche l'incitamento da parte del pubblico di casa. Simeone contro Groni, la concentrazione da parte del centrocampista offensivo dell'Arezzo contro il portiere del Milan. Parte Simeone a traversa, contromatto dai Simeone, il gol! Il gol di Simeone, ma attenzione, attenzione. C'è qualcosa che... Eh sì, è annullato il gol perché Simeone ha compito la traversa, poi la palla è tornata in campo e Simeone è andata a ribatterla. Non poteva effettuare il secondo tocco Simeone perché ha preso la traversa, ha preso e dunque è come se avesse calciato due volte il rigore. Rete annullata e si rimane sull'1-0 per il Milan, grandiosa occasione sprecata. Simeone, battuta verso il centro, ci prova Razzolini, traversa! Ma che traversa ha preso Razzolini! Porta stregata questa parte... in questa partita, porta stregata per l'Arezzo. Attenzione a Gramolelli, il tocco verso Merigo, posizione regolare, il cross dal centro. Attenzione all'intervento di Longoni, da dietro in anticipo su Mencucci, che per poco non trova il gol del raddoppio. Massaggio sbagliato, ancora Mazzini per Baracchi. Dai e vai ancora con Simeone. Zeghini, in mezzo a tre, ancora Zeghini, prova ad andarsene. Simeone, Simeone il sinistro, la parata da parte di Groni. Adesso arrivano le occasioni delle giocate, bravissima Simeone in questo caso, a provare il sinistro. Triplice fischio e arriva la vittoria da parte del Milan. Grazie all'autorete, messa a segno al nono minuto del primo tempo, un autorete che ha sancito la sconfitta dell'Arezzo in questo recupero contro una diretta avversaria, contro il Milan. Nelle prossime gare l'Arezzo affronterà la fortitude mozzecane al rientro del campionato che adesso sta effettuando una sosta e poi giocherà contro l'Inter in trasferta e l'Empoli in casa. Quindi tre gare molto difficili aspettando l'Arezzo che deve prepararsi al meglio, sicuramente meglio di oggi, per cercare di conquistare la salvezza. Siamo qui nel dopo partita di Arezzo-Milan, insieme a Chiara Tavanti, il presidente Arezzo Calcio Femmile. Chiara, quest'oggi una sconfitta che brucia? Brucia, in questi casi preferisco parlare poco e lavorare tanto, quello che stiamo cercando di fare. Noi siamo tutti dalla parte della squadra, delle ragazze, continuiamo a crederci perché la partita è stata molto bugiarda, comunque il calcio è anche questo, non dovevo mai buttarci giù e andiamo avanti. Noi siamo molto convinti nella nostra battaglia e a maggio se ne riparlerà. Comunque nonostante il risultato abbiamo visto l'Arezzo che ha creato anche tante occasioni. Cosa è mancato secondo te alla squadra per riuscire a portarsi a casa questo risultato e quelli precedenti? Un po' di fortuna e nel calcio la fortuna non è che arriva a caso, arriva quando ci sono tanti fattori che girano allo stesso modo, però dai, credo che sono cambiate tante cose, hanno bisogno del qui di in più le ragazze, ce lo devono dare. Loro, noi lo dobbiamo pretendere assolutamente da loro perché c'è una città e una società che sono qui per loro, basta, quindi loro devono semplicemente crederci, come io ho detto negli spogliatoi, toglietevi la paura, la paura la tengo io, voi andate e provate a vincere questa guerra.